Un ergastolano Antonio Sudano, 67 anni, che era rinchiuso nel carcere di Sulmona, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il magistrato di sorveglianza del Tribunale dell'Aquila ha accolto l'istanza presentata dall'avvocato Antonino Campisi, difensore di Sudato, motivando l'incompatibilità del detenuto con la vita carceraria per motivi di salute e per il rischio di contagio da coronavirus che in una persona con rilevanti patologie può seriamente aggravare il proprio stato di salute. Nel carcere Peligno l'altro giorno si è registrato un caso di coronavirus. Si tratta di un agente di polizia penitenziaria che presta servizio negli uffici amministrativi del carcere Peligno. Non esiste quindi un rischio contagio per i detenuti, ma dopo l'accertamento del primo caso di positività, l'ergastolano ha ottenuto la detenzione domiciliare a titolo precazionale. Il carcere è balzato agli onori della cronaca per i flash mobili detenuti e per l'esempio di rettitudine e umanità in tempo di emergenza, contrariamente a quanto avvenuto nel resto del paese.